Qualunque cosa cerchi, la trovi da Kik. La catena di negozi per te e la tua casa. Barbecue Landman da 20 euro. T-shirt di Minnie Mouse da 7,99 euro. Lampadi da giardino a partire da 1,49 euro. Kik, più di quanto ti aspetti. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Questo concetto chiarissimo espresso da Massimo Troisi è veramente ottimo per introdurre l'ospite di oggi, che dimostra quanto la poesia e la letteratura classica possano essere utili a capire noi stessi e come la Gen Z sta riscoprendo proprio gli autori classici. Benvenuto Edoardo Prati, un classicista innamorato della poesia e della divulgazione. Se qualcuno pensa che TikTok non sia un posto per la cultura e che la Gen Z non sia capace di approfondire argomenti complessi, ragazzi, si sbaglia. Perché Edoardo sta facendo riscoprire a migliaia di persone la letteratura greca, latina e non solo, rendendo i social un posto sicuramente, ragazzi, migliore. Ma chi è Edoardo? Ciao Edoardo, come ti presenteresti in poche parole? Come mi presenterei in poche parole? Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito. Quello che potrei dire per presentarmi è che io sono una persona che studia e è innamorata di quello che studia e cerca di portare su una piattaforma come TikTok degli spunti dai miei studi su qualcosa che possa incuriosire e far poi approcciare singolarmente le persone. Questo ci tengo a dirlo come premessa per non rischiare di essere frainteso che io non insegno, non spiego. Io sono uno studente che sta facendo il suo percorso e in questo percorso ha cercato anche di portare altre persone attraverso queste che sono le modalità di comunicazione più efficaci di oggi, secondo me. Edo, noi te ne siamo veramente grati. Io te ne sono veramente grata perché da ex classicista apprezzo veramente tanto i tuoi contenuti, mi piacciono un sacco. E infatti vorrei proprio partire dall'inizio perché per me c'è stato per esempio un autore oppure un'epistola nel mio caso che ha fatto breccia nel mio cuore e mi ha fatto capire quanto fossi innamorata della letteratura. Nel tuo caso c'è stato un testo o appunto un autore in particolare che ti ha detto sì, questa potrebbe essere la mia passione? Allora, avrei tre opzioni perché gli autori e la poesia in generale secondo me in base al momento in cui la leggi tocca una corda diversa e quindi ne avrei tre. Avrei Virgilio per quello che riguarda le georgiche quando descrive le api è stata una, non lo so, per me è stata una scoperta un'immagine, ne ho fatto anche un video dell'ape che si abbassa per terra e raccoglie un sassolino per zavorrarsi nella tempesta e io essendo profondamente emotivo ho pianto tutte le lacrime che avevo quindi Virgilio sicuramente può essere uno. Un altro può essere Lucrezio perché nel tempo in cui lo studiavo è stata l'occasione di conoscere la persona con cui sto perché lo traducevamo insieme abbiamo passato una settimana a tradurre Lucrezio e quindi lo leggo a questo ricordo e il terzo è Seneca per l'aspetto filosofico Seneca mi ha, una cosa che mi ha aiutato tanto è un passaggio del De Vita Beata dove Seneca dice che è felice colui che sa servirsi dei doni della sorte senza diventarne schiavo che può sembrare una banalità ma secondo me oggi non lo è a me ha aiutato molto pensarlo in questi termini Madonna, io sono felicissima ragazzi ti giuro, è proprio super bello perché poi Seneca lo è stato anche per me per me ci sono state le Epistole Ad Lucilium che sono state veramente una scoperta incredibile guarda, è un amore veramente stupendo e tu ne parli con una passione meravigliosa e siamo solo all'inizio quindi sono veramente curiosa di scoprire proprio la tua storia ma anche in che modo magari le parole dei grandi poeti possano averti affiancato nella crescita perché comunque ci sono degli insegnamenti incredibili dietro delle letture che per tanti possono essere molto lontani mentre in realtà io credo che siano estremamente vicini a noi e ti voglio proprio chiedere in che modo ti sono servite per la tua crescita queste letture, questi autori se avessi bisogno di un consiglio potresti anche chiederlo a Petrarca tu, giusto? Sì, allora diciamo così che qui bisogna fare secondo me un discorso a monte perché nella scuola in generale questo aspetto si perde ma è in realtà l'aspetto fondante ovvero il senso dello studio della poesia e della letteratura in generale allora quello che faccio l'esempio dell'Odiettamo di Catullo odio e amo come mi succeda questo forse tu mi chiedi non lo so ma sento che succede e pendo dalla croce questa è una poesia ex crucer non soffro ma letteralmente pendo dalla croce questa è una poesia che ha fatto storia che tutti quelli che hanno avuto un percorso o fatto un percorso classico l'hanno studiata e secondo me gli assume appieno il senso della poesia che cosa ci dice Catullo? ci parla di un sentimento che tutti abbiamo provato perché a chi non è successo di amare e odiare allo stesso tempo tutti l'abbiamo provato nella nostra esperienza personale condivido esattamente poi ci dice Nesho non lo so quindi ci dice che lui non sa perché questo succeda e qui si riassume tutto perché mi dà due consolazioni la prima è che non ci ha capito nulla neanche lui e la seconda è che ho la possibilità di capirci qualcosa il senso della poesia è quello che cercano i poeti di gridarci da anni è che non siamo soli e questo quando si prende effettivamente coscienza del non essere soli ma che siamo partecipi di una razza che è la razza umana secondo me si inizia a vedere il mondo diversamente perlomeno per me è stato così wow sono veramente d'accordo c'è un senso di non solitudine che ci accomuna durante la lettura delle poesie che incredibilmente nasce secondo me da un senso di quasi solitudine del poeta mentre scrive la poesia e questa cosa è meravigliosa perché poi siamo tutti uniti in questo senso di solitudine che non ci fa più sentire soli non so se ho reso l'idea sì sì no l'idea è chiara quando anche prima mi dicevi di Petrarca un consiglio lo posso chiedere a Petrarca assolutamente sì perché ci sono dei personaggi nella letteratura che hanno cercato di affrontare dei moti dell'animo quindi parlo dell'amore per Petrarca dell'amore per Dante parlo soprattutto l'amore diciamo che io generalmente parlo dell'amore e molti molti me lo fanno notare ma è il sentimento che preferisco e di cui mi piace di più parlare però chiedo consiglio tutti i giorni quando io leggo la vita nova di Dante mi rendo conto che lui descrive il suo innamoramento esattamente con la stessa sintomatologia con cui io mi sono ritrovato ad essere innamorato della persona con cui sto anche la povera la povera ragazza che lo porta sente in continuazione che io parlo di lei ma è così perché quella è la mia esperienza la mia esperienza personale dell'innamoramento e l'emozione di una persona a cui piace la letteratura e che comunque la studia è aprire un libro e rendersi conto che ti sta dicendo qualcosa in più di te fondamentalmente quindi per me è stato questo comunque hai detto una cosa per me molto interessante in questo momento ti dico anche della mia vita personale che è quello del è il mio modo di vivere l'amore io credo che sia anche importante capire che non tutti viviamo l'amore allo stesso modo a volte abbiamo necessità totalmente diverse rispetto a quelle concepite dall'amore socialmente accettato che possono essere anche vivere un amore poco romantico ad esempio non lo so vivere un amore diverso e non non è necessariamente sbagliato i poetici insegnano anche questo che ognuno vive l'amore a modo proprio che sia anche un amore estremamente sofferente è comunque un loro modo di vivere l'amore sì sì no questo è sicuro però secondo me questo discorso è già nell'evoluzione dell'amore si tratta di come vivere il sentimento amoroso una cosa che io credo sinceramente sia comune a tutte le persone che si sono innamorate non parlo di amore parlo di innamoramento proprio lì c'è una sintomatologia che è uguale per tutti Dante dice che chi avesse voluto vedere amore l'avrebbe potuto vedere nella mia faccia ed è così è rimasto il modo di dire perché questa faccia cosa sei innamorato ci sono alcune cose che secondo me accomunano tutti dal punto di vista dell'innamoramento poi dal punto di vista dello sviluppo amoroso le differenze sono tante ed è bello così parlando di differenze dal punto di vista amoroso mi viene in mente una meravigliosa poesia che Catullo ha scritto per Giovenzio e che non viene mai fatta leggere nelle antologie di scuola e questo è sbagliatissimo perché credo che tutti abbiano il diritto di essere ugualmente rappresentati visto che i poeti l'hanno fatto non deve essere la scuola a limitarlo e Catullo scrive vado a memoria perdonerete un eventuale errore i tuoi occhi tutti i tipi di amore vengano rappresentati dalla poesia questo è importantissimo e la scuola sotto questo punto di vista secondo me dovrebbe fare qualche passo avanti ho notato un piccolo errore comunque mentre mentre citavi la poesia in latino però ti ho lasciato stare perché insomma è rare umano sì la si può tagliare è rare umano se non sei seguito perché mi crocifigono che errore ho fatto io ovviamente ovviamente scherzo perché non credo che nessuno noterebbe mai un errore a parte che penso che tu sia stato perfetto cioè io mi fido comunque ciecamente della tua memoria non vi dovete fare no però sono d'accordissimo è un discorso molto importante anche questo di fare dei passi in avanti perché poi in realtà si tratta di fare un passo in avanti tornando indietro perché sono delle cose che sono successe sono state scritte da autori incredibili tanto tempo fa e questo ci dovrebbe anche far riflettere a proposito di Petrarca siccome tu ne hai parlato nei tuoi nei tuoi video su TikTok e hai detto se non erro che per capire l'amore bisogna per forza passare da Petrarca bisogna necessariamente passare da Petrarca tu hai adesso ci hai dato un assaggio del perché l'amore per Petrarca l'amore che esprime Petrarca sia importante ma c'è una storia profonda dietro dietro questo tuo bisogno di passare attraverso Petrarca per capire l'amore guarda io intendevo poi naturalmente i modi di TikTok solo a volte anche un po' provocatori appositamente forse mi spiego meglio io credo che chi voglia scrivere d'amore credo che debba passare per la lettura di Petrarca semplicemente perché Petrarca è a tutti gli effetti il modello del parlare d'amore e così è stato da quando ha scritto il canzoniere quindi credo sia un se non si passa per la visione che Petrarca ha dell'innamoramento secondo me si fa fatica sia a capire la letteratura posteriore sia a poterne parlare a poterne scrivere per me è un mattone su cui si deve costruire ma questa è una mia ipotesi non sono cioè la mia ipotesi in realtà valorata dalla storia della letteratura perché tutti gli scrittori sono passati da Petrarca però non è essenziale diciamo che un ragazzo per essere davvero innamorato debba leggere Petrarca questo sarebbe assurdo dirlo però se ne vuole scrivere ne vuole parlare in maniera più profonda secondo me è un mattone importante ora la cosa la cosa che trovo veramente meravigliosa è che tu parli comunque di tutto questo su su tiktok e per molte persone i social in generale ma soprattutto tiktok non non ha un senso in realtà cioè non è non è probabile che qualcuno soprattutto di giovane possa parlare di di queste tematiche in realtà io non sono d'accordo perché ci sono diverse parti di tiktok che si occupano di di cultura di letteratura io seguo diverse persone e sono molto affascinata e curiosa tu credi che i tuoi coetanei abbiano un desiderio di conoscenza cioè ti senti come posso dire vorrei dire seguito dai tuoi followers però forse non si capirebbe bene senti che c'è curiosità ecco da parte dei tuoi followers per quello che dici e quello che porti allora io su questa cosa e questa ci tengo davvero a dirla perché sono sinceramente andato un po' in crisi proprio su questo fatto non capivo quanto fosse giusto che io parlassi di determinate cose su una piattaforma come tiktok ci ho pensato veramente tanto e anche in maniera non leggera ecco diciamo così la conclusione a cui sono arrivato è che una piattaforma come tiktok per quella che è la mia esperienza nel momento in cui un contenuto entra deve essere necessariamente in qualche modo superficializzato perché per dire ho capito qualcosa di petrarca non puoi ascoltare un video di eduardo prati devi aprire il canzoniere devi andare a lezione devi studiarlo devi quindi è tutto necessariamente superficializzato nel momento in cui entra che poi questo contenuto superficializzato possa essere posto nel modo corretto e quindi suscitare la curiosità e lì allora è il mio intento cioè quello che voglio fare io non avendo io non posso insegnare nulla a nessuno io sto ancora studiando sono ancora in un percorso non mi piace usare la parola spiego perché non è quello che faccio quello che secondo me è funzionale fare in una piattaforma come tiktok è rubare un minuto di tempo alle persone che molto spesso come ci sono caduto io anni fa passavano il loro tempo in maniera compulsiva su questa piattaforma e far vedere che c'è qualcosa di più c'è qualcosa di curioso e di bello che ti può raccontare qualcosa di più su te stesso e che hai la possibilità di chiudere l'applicazione aprire andare poi ad approfondire per conto tuo che in questo ci possa essere del mio io adesso non voglio fare il falso modesto sicuramente qualcosa di buono l'ho fatto perché comunque qualcuno mi ha iniziato a seguire e i commenti mi dicono che questo cercare di distillare la curiosità ha un po' funzionato ma il mio è un lavoro molto marginale cioè credo che il lavoro vero lo facciano i professori nelle scuole credo che il lavoro vero lo facciano le persone che si sono laureate che hanno fatto della letteratura la loro vita io spero di arrivarci prima o poi ma ancora non posso minimamente dire di essersi ecco qua vorrei fare un'altra parentesi perché ti voglio dare io dei meriti in questo momento ma perché ci tengo veramente a questa cosa tu il tuo ce l'hai messo non solo vabbè per l'idea comunque di portare determinati contenuti sui social ma perché tu ne parli comunque con passione edo ne parli con passione questo è una qualità è un carisma che alle persone arriva necessariamente per mia esperienza personale per esempio ti dico che ho avuto una professoressa di greco e latino che è una donna che io amo da morire cioè la stimo da qui a sempre che si si commuoveva quando quando leggeva determinati passi di Virgilio ad esempio ed era uno spettacolo ascoltare le sue lezioni altri professori purtroppo non mi hanno trasmesso la loro passione per 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 le materie che insegnavano e spesso questo è un piccolo problema che si ripercuote sullo studente ovviamente non voglio dare le colpe a nessuno però nel tuo caso e nel caso dei professori che fanno questo lavoro con tanto amore viene trasmesso proprio viene trasmessa la passione che che mettete in quello che raccontate e quindi ti dico non trovo tanta differenza magari tra te e un professore sì lui ha una laurea e insegna ma a livello di passione con la quale raccontate delle cose riesci veramente a a incuriosire quanto lo fa un professore bravo io ti ringrazio tanto per questo però questa è una cosa che mi viene spesso anche scritta da una parte il mio ego non può che che giovarne e quant'altro però dall'altra parte devo essere corretto e quindi approfitto anche di questo spazio per dirlo che quando mi scrivono e ho capito più in 30 secondi con te che in una settimana con il mio professore è onesto dire che sì posso posso capire l'idea dello studente che mi scrive questa cosa ma poi la realtà dei fatti è che io sono 30 secondi sul suo telefono in un momento casuale della sua giornata e 30 secondi sono più facili da seguire che 5 ore di scuola innanzitutto giustissimo la mia passione possa fare leva sui sentimenti e quindi attirare di più va bene sono d'accordo anch'io ma vi assicuro che se i professori non fossero costretti a uno stipendio misero come quello che hanno sarebbero sicuramente più invogliati a dimostrare la loro passione e su questo sono ulteriormente d'accordo sarebbe veramente un discorso enorme da aprire hai ragione sì sì sarebbe un discorso enorme i professori hanno delle limitazioni che io non ho io non devo mettere i voti a nessuno io posso concedermi adesso a 19 anni che ho di parlare solamente della mia passione parlare di sentimenti è vero che questo può aiutare alcuni studenti ma è altrettanto vero che la conoscenza si fa anche sulle nozioni anche sulle informazioni su un percorso strutturato che io non sarei in grado di fare invece i professori cercano di fare con tutto loro stessi nonostante le continue i continui bastoni tra le ruote che la società gli mette quindi qui bisognerebbe secondo me la cosa principale da fare è dare veramente più spazio al professore più dignità al professore no sono d'accordo infatti prima ho fatto una premessa dicendo premetto che non è colpa di nessuno perché in realtà pensavo fortemente a questa cosa so quante limitazioni ci sono ho diversi amici un po' più grandi di me che sono insegnanti precari ad esempio e quindi so quali sono le difficoltà che ci sono dietro le quinte di cinque ore di lezione e questo diciamo che in breve per quanto mi riguarda si dovrebbe investire un pochino di più sull'istruzione ma di questo ne parleremo in un altro in un altro luogo sicuramente in un altro momento ci prendiamo un caffè e ne parliamo per quanto riguarda senti invece ancora i social sono curiosa qual è stato il tuo primo video pubblicato cosa hai detto in quel video allora io ho una storia travagliata perché ho iniziato a pubblicare in credo terza quarta terza superiore ed ero proprio un bambino e facevo esattamente delle cose che faccio adesso solo che con una media di 20 visualizzazioni a video che tra l'altro mi emozionava tantissimo e facevo le spiegazioni delle lezioni che ascoltavo tornavo a casa studiavo per l'interrogazione e quando avevo studiato per l'interrogazione per consolidare ci facevo un video a me TikTok è iniziato come metodo di studio perché se io fossi riuscito a stringere il concetto in 60 secondi di video voleva dire che lo avevo capito e quindi è iniziato in questo modo poi una volta ho fatto un video un po' più shock un po' più creativo sulla metrica cantata cantavo l'inno a venere di lucrezio e quello ha avuto un po' di visualizzazioni si parla si parla di 100 mila 200 mila che per un canale con 100 iscritti è l'inizio tantissimo e poi da lì da lì ho continuato e che in realtà molto spesso adesso mi sto sicuramente evolvendo però faccio la stessa cosa quello che studio per l'università ne parlo su TikTok quindi cerco sempre di unire i due aspetti e c'è un divulgatore che ti ispira al quale ti ispiri o magari esiste qualche content creator che pensi sia affine a te che magari porta bene o male i tuoi stessi contenuti allora i miei stessi contenuti no con il mio modo e tra l'altro anche proprio riguardo all'argomento io non perché argomento classico sicuramente ce n'è qualcuno ma adesso non ricordo i nomi sono veramente una vergogna però insomma qualcuno c'è qualcuno c'è ma lo fanno in modo differente fanno più magari sul meme sull'ironia e comunque è anche quello un modo di parlare di classici senz'altro però con il mio intento non ho visto nessuno un qualcuno a cui idealmente mi posso ispirare è un personaggio che io stimo che è Barbero sicuramente e molti mi scrivono sei il figlio di Barbero no minimamente no magari è stato un podcast che ho ascoltato tanto quest'anno no no mi piace mi piace tanto il suo modo di parlare della storia veramente molto interessante bravo mi sei piaciuto mi sei piaciuto è stata un'ottima introduzione quella di Barbero però per quanto riguarda appunto proprio il tuo modo di portare i contenuti no perché è vero ci possono essere altre persone che portano contenuti di letteratura letteratura classica greca però tu diciamo sei un po' più forse dimmi se sbaglio improntato sul discorso letteratura come consigliera di vita no e quindi prendiamo dalla letteratura spunto per risolvere per porci delle domande oppure per rispondere alle domande che a delle domande che ci poniamo e dato che in questo podcast parliamo della generazione Z in che modo credi che la generazione Z possa imparare dalla letteratura so che è una domanda molto aperta ci sono molti modi e tante risposte ecco ti viene in mente qualcosa di specifico la prima cosa che ti viene in mente la prima cosa che mi viene in mente allora Vecchioni scrive una canzone che si intitola Vai ragazzo e quello che alla fine desidero dire io è questo cioè dice tu rallenta il passo e guarda piano secondo me soprattutto la letteratura classica in questo può aiutare cioè far rallentare un attimo perché i modelli relazionali sono voraci la vita è una rincorsa continua alla quale si fa fatica a starci dietro quindi forse direi questo la possibilità di rallentare un attimo e pensare un po' di più a se stessi una sorta di specchio davanti a cui fermarsi pensi che questo possa essere possa collidere con il discorso della giovinezza nel senso pensi che la letteratura possa dare questo consiglio ai giovani in quanto giovani ai giovani in quanto giovani io non allora anche questo io sono un po' particolare sotto questo aspetto perché io non credo la differenza tra i giovani e i non giovani è semplicemente un aver acquisito delle esperienze mentre molto spesso c'è il mito del giovane che deve fare il giovane che deve vivere il giovane che deve il giovane non deve niente come non deve niente l'anziano e non deve niente il signore di mezza età io credo che che la letteratura sia adatta a tutti in ogni momento della vita e mi piace anche ricordare che anche cento anni fa se pensiamo a cento anni fa la letteratura era per le persone che studiavano pane quotidiano già dai 14 anni quindi voglio dire non è che non credo ci siano delle letterature per dell'età il consiglio che possono dare non saprei non saprei non saprei rispondere nello specifico perché è talmente singolare talmente personale o meglio di singolare talmente personale che decidere io quale può essere un consiglio da dare faccio fatica sicuramente rimanendo sul vago quello di rallentare può essere può essere uno perché credo sia la base di tutto la malattia più grande dell'epoca che stiamo vivendo questa velocità questa questa superficialità in generale direi così è un antidoto alla superficialità certo giustamente poi le lezioni che possiamo apprendere dalla letteratura sono molto personali dipende dal periodo che stiamo vivendo dal periodo emotivo proprio che ognuno di noi sta vivendo magari in quel determinato periodo riesce a recepire più determinate cose che altre ha bisogno più di trovare un insegnamento in una lettura piuttosto che un'altra quindi capisco benissimo il discorso della soggettività della singolarità io Edo come ultima domanda come ciliegina sulla torta vorrei che che mi consigliassi consigliassi a chi ci sta ascoltando un testo che secondo te è indispensabile per entrare nel mondo dei classici oh domandona è un testo che è indispensabile per entrare nel mondo dei classici grece e latino o classici in generale allora grece e latino perché è un mondo più ridotto e quindi faccio meno fatica a rispondere io direi le ne posso dire due ora la brevità della vita di Seneca è la brevità di vita perché rispetto a quello che stavamo dicendo secondo me è imprescindibile e se si ha voglia invece di entrare un pelino di più nell'aspetto proprio poetico della poesia latina direi sempre le georgiche di Virgilio di cui parlavo prima nel mondo greco io sono sono più verso il latino che verso il greco ma amo naturalmente anche anche il greco consiglierei la lettura di una tragedia e di una commedia quindi Euripide e Aristofane direi di Euripide la Medea è imprescindibile secondo me perché racconta davvero qualcosa di noi racconta racconta l'uscire dal modus racconta la rabbia racconta il dolore e se invece ci si vuole fare due risate direi la lisistrata di Aristofane dove appunto le donne per far terminare la guerra del Peloponneso decidono di riunirsi e astenersi dall'attività sessuale e poi vedremo come va a finire se lo leggerete guarda Edoardo io ti ringrazio veramente di cuore è stata una una chiacchierata stupenda molto 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 bella per me mi hai fatto tornare un po' al al liceo riscoprire una letteratura che io amavo tantissimo cioè io avrei voluto fare lettere antiche all'università quindi l'ho amata veramente tanto se avrò bisogno di qualche consiglio di letteratura ovviamente sappi che ti manderò un messaggino ti dico Edo consigliami qualcosa solo in questo momento della mia vita però ringrazio veramente tanto Edoardo Prati e ti voglio lasciare con una cosa che ormai faccio sempre nel senso che c'è un luogo comune tanto pesante anche sulla Gen Z che è quello di la Gen Z non ha voglia di fare niente come rispondi a questa affermazione Rispondo che se la Gen Z non ha voglia di fare niente credo che la maggior parte delle persone che appartengono a questa generazione si siano adattate a quello che hanno costruito per loro cioè la Gen Z che non ha voglia di fare niente perché sono stati forse non dico che sia vero però se comunque questa cosa viene notata può essere che c'è un po' meno di slancio rispetto alle generazioni precedenti perché le generazioni precedenti hanno imbottito i ragazzi dell'idea che non sono buoni a fare niente cioè secondo me se uno viene educato da bambino con l'idea che deve essere iper accudito deve essere aiutato in tutto cresce con una profonda insicurezza a un certo punto gli passa anche la voglia di fare le cose io ho avuto la fortuna in questo senso di essere stato lasciato anche un po' a me stesso con tutti i problemi del caso però sicuramente non mi sono mai trovato comodo ecco nelle situazioni avrei risposto allo stesso modo a questa domanda quindi ti dico un ulteriore grazie per aver concluso veramente in bellezza questo podcast ringraziamo tutti quanti Edoardo Prati veramente grazie grazie Edoardo ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo presto con Genzie allo specchio Dr. Podcast Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti